si e benvenuti in questa nuova demo di restituto in play demo quindi partiamo con il gioco allora devo leggere non so neanche io i tasti vabbè proviamo cammina con questo per me l'importante è saper sparare perché se arrivano quei figli di puttana non c'è nessuno aspetta sto indagando sto mirando con questo con questo si spara allora non dobbiamo perdere tempo perché sono 30 minuti 30 minuti lì? eh beh aspettiamo di più no perchè possiamo perdere tempo a fare degli ingesti oh lui oh my god guarda io penso che questo è peggio di tutto io dico di sì io penso che il segno no 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 perchè mi stai ridendo è bastardo è bastardo quando stanno le questi sono quei cassetti tu li apri e ti esce lo zoom perchè in quello che c'hai tu escono quegli mostriciattoli che fanno cagare invece qua quegli zombie proprio stile dual kill apri la cassa ok che mi dai? niente ok vai ora fatti il giro non lascia stare la prendi solo le cartucce questo gioco io lo compro perchè già vedo che mi piace combina vai fai combina ok apri l'inventare no non ci pensare perchè dobbiamo fare il minimo indispensabile devo capire pure come si corre con questo devi fare no con questo no guarda corri e tieni pronto vedi? anzi va piano forse ecco vedi ok allora ah in avanti però dobbiamo andare da qualche parte allora qua in effetti è tutto da indagare quando non conosciamo il posto il problema sai quale è che ti ho detto sono 30 minuti quindi non abbiamo il tempo per vai apri quella porta lo so però non conoscendolo è chiusa non abbiamo la chiave si annulla cerchio è fighissimo già mi piace comunque ancora non ho fatto in questo genere questo gioco vai prendi tutte le munici quindi vai su vai prendi le munici combina ok oppure quello vecchiero così combina questo va da verso il basso è fighissimo comunque vabbè ma stiamo parlando 1998 allora detto meno mi piace però forse questo mi piace anche di più questo è più bello si forse mi piace anche di più poi sarà che mi piacciono le cose degli zombie questo è il suo primo giorno penso che il primo giorno è di merda è un po' come quando Rick si sveglia e trova un mondo in vasso dagli zombie è un giorno merdoso andiamo di là andiamo di qua poi di qui qualcosa deve pur esserci vai apri quella porta l'altra porta ok qua non c'è la chiave vai apri state accorti non si apri no mi sa di no no la spinge o non apri allora girati la riscendi perchè dobbiamo dobbiamo trovare qualcosa per andare vai riscendi ah sta uno morente sta uno no tipo due morente se non mi sbaglio scendi giù giù? ti ricordi che sta giù? eh tracce di sangue guarda una petalla di sangue no 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 non c'è vedi un attimo là qua è? qualcosa un kex? no non ci puoi fare niente niente forse ci vogliono qualcosa qua dentro questa porta no forse è la chiave ha la chiave vieni un attimo ha la chiave non ce l'abbiamo la chiave no vai in giro ti vediamo da una poca forse è qua vedi la serve il nastro eh cazzo esci annulla la la sono altre munizioni eh si ci deve essere qualcosa comunque ma viene uscita più che qua eh si vai la ecco clicca con l'interruttore girati no girati ah si tiralo ok voglio voglio devi passare per tutto mi sa eh infatti wow che proprio che le cose arrivi a morire praticamente a ghiacciare si arrivi a morire ok muovi a morire oh cazzo sei pronto per il mondo giornata di merda? ma immagina entrare in una situazione del genere accedirei ah no non c'è per il fusillo il fusillo il fus... il fus... il fus... il fus... il fus... è una giornata di merda è questa qui è stato accorto ah ma mi sbraneranno coraggio eh si ma lo mani non voglio perché non so spara ancora si spara con questo allora punti e spari girati 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 sta là la porta vai ok vai vai cammina su per quello si sporca puttana morto c'è uno stronzo si è cagata addosso guarda c'è il ciclo si è cagata addosso si è cagata addosso si è cagata addosso esamina combina prendi la munizione il stronzo l'abbatto 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 voglio dire che questo è peggio e tu non mi credi dire prima e poi rimane raggiù non è peggio e poi peggio allora io ti porto residente del 27 voglio che sono professionista e suggerire peggio no tu non vuoi stas di dobbiamo andare io ti scoppio io ti scoppio io ti scoppio ma io ti scoppio ecco clicca quella clicca quella clicca quella clicca loco ah qui ci sono ragazzi e luci girare visuale girare visuale girare visuale ah comunque finissimo me lo comprerò sicuramente ah rua qua e poi skin di rick a tutta forza ed è costo 80 euro l'edizione speciale per la skin eh che è il dlc pack 80 euro non faccia revisione a una macchina no comunque qua niente clicca di nulla vedi un attimo no no di cliccare eh sì meglio accesa allora aspetta girati vadi annanzo no 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 l'annanzo girati ecco vedi queste radio vedi se sta una di queste va no niente no neanche neanche sposta gli scatoloni vedi se si possono spostare no quando pare no perché uno di questi oggetti dovrebbe essere funzionale no allora esce poi ha cambiato in guardatura esci fuori no esci fuori è inutile se non si passa non si passa ci pensi esce esce lo zombie sei pronto teniti pronto a qualunque venenza vai vedi ingirati ingirati vedi se si può aprire no no allora vai là continua per di là sei impremuto? ah dai cazzo ma è sceva che stronzo potrebbe no dai no 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 ma comunque è proprio fatto fighissimo chiaramente sembra di stare qua dentro a cagarti addosso guarda quello cristo ecco ecco allora sono proprio io questo quello che sono io quando avevi i capelli vent'anni qua a cristo io mi sono caduto per avere paura girati aprite ti prego non è la no non è la aprite questa cazzo di casa si un attimo vai la vai continua ma apri quella porta attento non si apri allora girati girati vai là apri là per forza qua ci fa devi aprire quello girati girati ti faccio uscire mi� di ti faccio uscire questo santo santo di vero il cielo passata miglior vita ma non lo faccio a tutti uomo porco giuda dicevo la rite scoglie ma è sfoglia non basta solo allora devi fare così dove stiamo all'inizio un luogo faccio un altro strumento di stia porca la vera estrae spara ok tenendo questa spara di nuovo di nuovo non non è molto continua continua muori stronzo mamma un pochino è morto continua vai vai facciamo così allora voglio fare secco questo bastardo mannaccia non viste nemmeno ma cazzo è difficile comunque ma cazzo corri 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 c'è nella merda è difficile vai giù vai ma provo io è difficile continuo passare alla modalità assistita no continuo ti faccio uscire non ci posso uscire infatti tanto ce l'ho visto ok ma riguarda io sono pronto ok già sei passato là e qui vieni 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 ma va bene alla rondella ok è morto è morto no non è morto round 2 avendo giocatore a quell'altro comunque non basta un gruppo solo la testa ne vogliono ripetere ecco quello con lo stronzo che è entrato guarda quello continua a trassi qua forse è morto ok allora l'altro principale mi ho detto che sta ma in questo modo non lo posso allora aspetta qua non c'è nessuno sono ovunque ma due stronti è una costruzione di pallottole perché se ne sprechi tante rimani senza è spappolata per ora mai non c'è niente più un altro stronzo ma la inutile sono colpi sprecati perché la testa è il punto importante infosibile forza qualcuno sa come è iniziato non ne ho idea estrarmi a secondaria L1 ah che ho capito allora quindi io devo andare penso sia ciò che ora lo devo aprire e infatti ecco e tiro ok non è così che immaginavo il pioce ecco non è così che immaginavo è vero prendiamo le cartucce con vita importantissime erba fermo questo capo potrebbe rialzarsi vero va bene è morto no no è morto è marcio ah shit questo è il bollino rosso no 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 è stato maniato il bollino rosso oh a cristo santo mamma di bollino ma è qua la buca cosa ma è sto impiccato chi sta impiccato è c'è c'è se io sono c'è porca pupa guarda si è ravuto porco altro stronzo ah piatti vieni vieni faccio giusto via ti rompe l'oro ok vieni non fa ma meglio è boom uno io faccio i merdi boom tre vuoi azzatti ok rimanici però mamma è un zammato che ci vogliono tutta all'ottole ancora bombo riprovi oddio vai bombo riprovi lesbica un bombo riprovi porca si alza ancora c'è una testina di merda sei viva morici buon riprovi oh yeah weapons locker keycard keycard aeroporto ok costa la mappa ho apposentato alla polizia ok allora io non sto qua un altro strumento di una via di butta ma non cercano con le ciambelle aspetta ok è morto penso il braccio è andato è andato e stanno maniati la maniato gli attuni con l'attacca età di loro e zombie zombie no che sofferta eccolo vai vieni ma già noi vivi perché sembra l'odore no ma forse ci sarà facendo che stanno le cose e sbarri shit non ha munizioni ma che cazzo vai 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 facciamo una canna allacciata la canna allacciata ce n'è un altro e se senza munizioni sopra vedi sopra sopra le scale che ha trappolato il tuo sta scendendo secondo me e ora devo andare a dire non lo vuoi non va a finire la paura deve morire no lui stronzo non ci possono usare i tuoi capito perché non ho le... eh ho capito non c'è neanche più il coltello eh no eh non si può estrarre di nuovo eh mo no perché è vivo eh infatti vediamo come cazzo continui 5 certo è difficile eh eh cioè se non trovi le armi non è facile perché ti mangi ma questa qua ecco wow è base meno male allora facciamo così la vecchia maniera facciamo ah 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 poi facciamo ah di qui e va forse l'acqua non c'è vabbè lasciamo stare va wow chissà quello si sarà una parola ma è vivo no però a questo punto può esserci qualcun altro ecco lì o lì no munizioni però per fucile porca p***a eh vabbè se le prende magari puoi togli il fucile il problema a questo mi sembrano le armi bene e poi c'è capiamo pure che io muoio e poi toccate non abbiamo armi questa se c'è qualcosa la karma addosso proiettivi vai meno male io direi una cosa allora io vorrei un attimo a fare questo perché se lo accoppiamo ci vogliamo coltello forse c'è una schiena forse c'è una schiena a questo punto non lo uccidevo però vabbè perché prima l'ho ripreso capito ah ti ho capito di riprenderlo aspetta voglio solo accertarmi di una cosa non c'è niente allora appena vedo un zumbi barri con la barriera con quel cosa cartucce proiettivi a posto buono ok anche attenti vista una saga guardano un manichino eh sì si nata voto codice ecco la vecco questa chiave aspetta ci serve però dobbiamo buttare qualcosa l'erba aspetta o magari le munizioni dure da il fucile però forse no meglio l'erba facchimballati cos'è stato qua mi esce da questa pedra già lo sai che è sta merda un polvere da spare ecco ora c'è due barriere piuttosto questa già ce l'avevo in default altre cose ah grazie ah spazio in più ecco ma questa nostra è la zona leon sono marvin vieni qui appena puro stai bene stai mangiando a me ho qualcosa da mostrarti è importante ricevuto arrivo subito wow ci pensi ma finisce la demo wow no mamma mia ma mamma mia senti va a fare l'importante a costruire base vieni che si mangiavano tra la morte no quello era da estra vivo i suoi mesi non si mangiano vivio vivio ma che ma che cazzo ci stanno a te che stava di la vita sali 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 mamma mia fortunatamente penso che non possa non abbiano no no non sa come scale mi ha detto quella là così no le scale quelle là così di quel tipo l'hanno le altre le classiche si salono e scendono però così cazzo di canto c'è cato noi cato di c'ampano si ci restano pure sicche spesso il corso vai dobbiamo andare subito se finisce la demo un cazzo è un bel gioco è molto bello secondo mi poi immagina con la skin di rick il sogno di ogni appassionato di walking dead qualcuno è vivo ancora guarda questo bastardo che mi sta fucibendo comunque quel vecchietto di merda era un bastardo è quella che non voleva morire niente mi vuole cosa si mangia ciambelle Glenn munizione da dove me ne esco non posso rompere la struttura la c'era una cosa si lascia munizioni questo è bello si è serio ma cominciamo a ragionare un po con queste armi vuoi provare l'arma ecco questo è basto un colpo e ci è rimasto secco ma c'è bisogno di spiegarle un altro ok allora mettiamo e quale di questi è il codice vorrei sbloccarli un attimo quelli che posso prendere che stanno le munizioni 109 già fatto vabbè anche iniziamo a prendere quelle che ho sbloccato ah c'è 102 il rullino ah il rullino penso sia per qualche armi questo è il fucile pistola la pistola allora 102 103 100 non c'è né 2 però questo dobbia essere 2 questo 3 eh lo so 104 proviamoli proviamo in attimo 107 vabbè vabbè ok lasciamo stare pronto a continuare vai ma col fucile è proprio cazzuto si e chi ha più paura di niente fermi qua non si può scrivere qua accendiamo la luce no non è finita la demo cazzo cazzo mamma mia vabbè bellissimo gioco si assolutamente è giocatore continua l'avventura nel gioco principale bello molto bello io grande si quindi bellissimo va comprato e va giocato va giocato e va messa anche la skill di Rick ha messa la skill di Rick se è così lasciatelo commentatelo condividetelo come sempre al prossimo video